musica 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 una carta banca che ha tirato 50.000 dollari al mese cioè 8 persone x 50.000, 400.000 ora facciamo la regola troppo semplice 400.000 x 18 anni 400.000 x 18 anni ci sono almeno 22.000.000 dollari per 8 persone, come va, 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 va ma papi babbic si non si non si non il nata un po' di male però in Italia la mettere a pescocci con la cantina da un po' di male non so che il mostro non so che ha avuto un po' di male ma notte il resto che sia un po' di male ma non c'è non si non ma mia ma non a Non lo so, non lo so. Non lo so. Voi siete più che di Lion. Voi. Voi, come lo so, come lo so, come lo so, come lo so, come lo so. Ma cosa, come lo so, mi sono 50 mil dollari al mone. C'è cosa che dite? In un giro. Ci sono dei giocatori che prendono davanti al pubblico, in complicità della Banca Centrale. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutti. Grazie a tutti.